ah eccoci qua arrivati in questa nuova città andano a scuola che non vedo nessuno questa la mia casa per ora è un buco perché non tengo i soldi andiamo a vederla la scuola è chiusa come faccio mo ho trovato ora mi spacco dei blocchi questo in modo da salirci spero che non ci deve vedere nessuno ci telefoniamo dentro la scuola voilà per vederla piano 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 questo deve essere la scuola andiamo su quella finestra laggiù attenzione alle sentinelle ok se ne va arrivederci aspetti che cosa ci ok andiamo a casa finiamo a casa andiamo subito ok non c'è nessuno possiamo possiamo dibattercela ok la classe la segreteria non sbagliamo subito in questa cassa ok stanno facendo giorno presto tutti si sveglieranno che sono ancora le 4 del mattino dai via 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 ci avevo messo io da furbo sono tornato di nuovo e senza che se ne accorta datemi il 5 ragazzi ora sono 3 ore con andare e ora tanto la scuola inizia solo domani questo è l'ultimo giorno delle vacanze perché tanto domani inizia la scuola conosciamo nuovi studenti ragazzi iniziate qui a scrivermi che incontreremo, cosa succederà leggiamo io intanto me la passo a casa perché io abito molto lontano qui ho dovuto ho dovuto spaccare dei blocchi ma è meno male che il guardiano non se ne è accorto sennò ci ci pigliava proprio male poteva finire anche male peggio di così non poteva andare però poi ci avevo scoperti questa è la mia casa un letto e niente se non ho letto poi vedo così tutto crafting ma faremo più là queste cose da quando ho visto senza scoprirci chissà cosa starà facendo il bravo il guardiano entriamo di nuovo per darci un'occhiata daremo solo un'occhiatina alla finestra e ce ne andremo ok ok meno male meno male meno male andiamo via prima che ci scoprono si senza essere scoperti il prof stava lavorando ma non se ne è accorto di niente a tutti io non avrebbe fatto nulla ok me ne vado subito a casa e ci starò lì finché domani inizia la scuola tanto sarà notte tra poco quindi il sole sta tramontando e deve tramontare e tra poco dobbiamo andare a dormire perché domani sarà una lunga giornata perché non tramonta il sole e sobbene tramonta il sole tramonta non funziona quindi abbiamo visto tutto io vado a fare un bel ripostino e prepararmi per domani perché domani sarà il mio primo giorno di scuola ciao che c'è che c'è Grazie a tutti.